benvenuti oggi vi presentiamo una vera rivoluzione ed innovazione nel campo della medicina med bed la rivoluzione della medicina futuristica med bed la rivoluzione della medicina che cambierà tutto scopri i med bed la nuova frontiera della guarigione come i med bed possono trasformare la medicina tutto quello che devi sapere il futuro della guarigione è qui introduzione ai med bed un mondo dove la guarigione avviene in poche ore o addirittura minuti grazie a una tecnologia avanzata questo non è un film di fantascienza ma la promessa dei med bed una delle innovazioni più rivoluzionarie in medicina unisciti a noi in questo viaggio verso il futuro della medicina dove la fantascienza potrebbe diventare realtà med bed la rivoluzione della medicina futuristica med bed la rivoluzione della medicina futuristica med bed la rivoluzione della medicina che cambierà tutto med bed la rivoluzione della medicina che cambierà tutto scopri i med bed la nuova frontiera della guarigione come i med bed possono trasformare la medicina tutto quello che devi sapere il futuro della guarigione è qui introduzione ai med bed immagina un mondo in cui le malattie e le ferite possono essere curate in pochi minuti senza interventi chirurgici invasivi questo futuro potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo grazie ai med bed una delle innovazioni tecnologiche più rivoluzionarie nel campo della medicina immagina un mondo dove la guarigione avviene in poche ore o addirittura minuti grazie a una tecnologia avanzata questo non è un film di fantascienza ma la promessa dei med bed una delle innovazioni più rivoluzionarie in medicina unisciti a noi in questo viaggio verso il futuro della medicina dove la fantascienza potrebbe diventare realtà nel futuro i med bed potrebbero diventare una parte integrante degli ospedali e persino delle case il loro impatto potrebbe essere simile a quello che internet ha avuto sulla comunicazione i med bed rappresentano un salto tecnologico che potrebbe trasformare il nostro modo di curare le malattie la medicina del futuro è già qui e sta cambiando la vita di milioni di persone descrizione immagina un mondo in cui le malattie e le ferite possono essere curate in pochi minuti senza interventi chirurgici invasivi questo futuro potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo grazie ai med bed una delle innovazioni tecnologiche più rivoluzionarie nel campo della medicina unisciti a noi in questo viaggio verso il futuro della medicina dove la fantascienza potrebbe diventare realtà in questo video esploreremo 1 cosa sono i med bed scopriamo insieme questa tecnologia avanzata che utilizza rigenerazione cellulare e terapia quantistica per curare il corpo 2 come funzionano analizziamo il loro potenziale nel riparare tessuti guarire ferite e persino rigenerare organi 3 vantaggi rispetto alla medicina tradizionale come i med bed potrebbero trasformare gli ospedali del futuro rendendo obsolete molte pratiche mediche invasive 4 prospettive future dove ci porteranno i med bed e come potrebbero cambiare la nostra vita quotidiana e il sistema sanitario preparati a immergerti in una tecnologia che sembra uscita da un film di fantascienza ma che presto potrebbe diventare una realtà lobo stelline 4 prospettive future la tecnologia dei med bed ha il potenziale di trasformare radicalmente il nostro sistema sanitario e la vita quotidiana ecco alcune delle prospettive future più affascinanti 1 accesso universale alle cure avanzate immagina un mondo in cui i med bed sono presenti non solo negli ospedali ma anche in cliniche locali e un giorno persino nelle nostre case 1 questo potrebbe rendere cure avanzate accessibili a tutti riducendo drasticamente i tempi di attesa e permettendo trattamenti immediati per una vasta gamma di condizioni 2 riduzione dei costi sanitari sebbene l'investimento iniziale nella tecnologia dei med bed potrebbe essere elevato a lungo termine potrebbero ridurre significativamente i costi sanitari 2 con la capacità di curare malattie rapidamente in modo non invasivo i med bed potrebbero eliminare la necessità di lunghe degenze ospedaliere terapie costose e interventi chirurgici complessi 3 personalizzazione delle cure i med bed potrebbero essere programmati per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni paziente rendendo i trattamenti altamente personalizzati 3 questo livello di precisione potrebbe migliorare notevolmente i risultati clinici e ridurre il rischio di complicazioni 4 impatto sulle malattie croniche una delle applicazioni più promettenti è il trattamento delle malattie croniche 4 i med bed potrebbero rigenerare i tessuti danneggiati 1 cosa sono i med bed i med bed sono dispositivi medici avanzati che utilizzano una combinazione di rigenerazione cellulare terapia quantistica e tecnologie olografiche per curare il corpo umano in modo rapido e non invasivo questi letti futuristici potrebbero rivoluzionare la medicina andando oltre le attuali capacità di guarigione si basano sull'idea che il corpo umano possa essere riparato a livello cellulare rigenerando tessuti organi e persino correggendo anomalie genetiche in sostanza i med bed potrebbero rappresentare una fusione tra scienza medica e tecnologia avanzata simile a qualcosa che vedremmo in un film di fantascienza 2 come funzionano il funzionamento dei med bed si basa su principi scientifici avanzati come la rigenerazione cellulare e la terapia quantistica i med bed utilizzano la scansione del corpo a livello molecolare per identificare le aree danneggiate o malate una volta individuate queste aree vengono trattate con tecnologie di rigenerazione cellulare che stimolano il corpo a guarirsi autonomamente riparando i tessuti e rigenerando gli organi inoltre i med bed possono utilizzare terapie energetiche avanzate come campi elettromagnetici e frequenze quantistiche per ristabilire l'equilibrio naturale del corpo e accelerare il processo di guarigione questa combinazione di tecniche innovative potrebbe permettere trattamenti rapidi e soprattutto non invasivi 3 vantaggi rispetto alla medicina tradizionale rispetto alle pratiche mediche tradizionali i med bed offrono numerosi vantaggi prima di tutto possono ridurre drasticamente i tempi di recupero permettendo ai pazienti di guarire in poche ore o giorni piuttosto che settimane o mesi questo potrebbe rivoluzionare il modo in cui trattiamo le malattie eliminando la necessità di interventi chirurgici complessi o terapie a lungo termine inoltre i med bed sono non invasivi il che significa che i pazienti potrebbero evitare cicatrici dolore post operatorio e complicazioni legate agli interventi chirurgici infine grazie alla loro capacità di personalizzare i trattamenti i med bed potrebbero offrire cure più mirate ed efficaci adattate alle esigenze specifiche di ciascun individuo 4 prospettive future guardando al futuro i med bed potrebbero trasformare il panorama sanitario in modi inimmaginabili ecco alcune delle possibilità più affascinanti 1 accesso universale in un futuro in cui i med bed saranno diffusi potremmo vedere queste tecnologie disponibili non solo negli ospedali ma anche in cliniche locali e persino nelle abitazioni private 1 questo potrebbe rivoluzionare l'accesso alle cure rendendo trattamenti avanzati disponibili a chiunque ovunque nel mondo 2 riduzione dei costi sebbene la tecnologia dei med bed potrebbe sembrare costosa inizialmente il loro utilizzo su larga scala potrebbe ridurre significativamente i costi complessivi della sanità eliminando la necessità di lunghe ospedalizzazioni e trattamenti costosi 3 personalizzazione delle cure i med bed potrebbero adattarsi alle esigenze specifiche di ciascun paziente offrendo trattamenti personalizzati basati sulla condizione individuale migliorando l'efficacia delle cure e riducendo il rischio di effetti collaterali 4 impatto sulle malattie croniche la capacità dei med bed di rigenerare i tessuti e curare le malattie a livello cellulare potrebbe offrire nuove speranze per il trattamento di malattie croniche come il diabete le malattie cardiovascolari e persino alcune forme di cancro cambiando radicalmente la qualità della vita di milioni di persone gli anti aging bed sono un'altra interessante innovazione nel campo della salute e del benessere questi letti utilizzano tecnologie avanzate come il grounding e il far infrared per migliorare la salute rilassare e potenzialmente ritardare i segni dell'invecchiamento anche se non sono la stessa cosa dei med bed condividono l'idea di un futuro dove la tecnologia può migliorare il nostro benessere cos'è un med bed una panoramica completa il med bed sono spesso descritti come dispositivi medici futuristici che utilizzano tecnologie avanzate per rigenerare i tessuti curare malattie e persino correggere anomalie genetiche si basano su una combinazione di rigenerazione cellulare terapia quantistica e olografia offrendo un modo rivoluzionario di trattare il corpo a livello molecolare questa parte del discorso dovrebbe concentrarsi sul concetto e l'idea dietro questi letti spiegando la tecnologia immaginata e come potrebbe cambiare il panorama della medicina 2 come funzionano tecnologia dietro i med bed l'approccio si basa su diversi principi e tecnologie avanzate 1 scansione molecolare utilizza una tecnologia di scansione per mappare il corpo umano a livello cellulare e identificare aree danneggiate o malate due rigenerazione cellulare una volta identificato il problema i med bed potrebbero stimolare le cellule del corpo per iniziare il processo di autoriparazione innescando la rigenerazione dei tessuti 3 terapia quantistica si tratta dell'uso di frequenze energetiche specifiche per riportare il corpo in uno stato di equilibrio facilitando la guarigione 4 olografia e intelligenza artificiale l'uso di ologrammi ea può aiutare a creare una rappresentazione visiva delle condizioni del corpo fornendo un feedback in tempo reale e personalizzando i trattamenti questa sezione può essere dettagliata con esempi di come ciascuna tecnologia potrebbe essere implementata e il tipo di risultati che ci si aspetta 3 vantaggi rispetto alla medicina tradizionale i med bed offrono potenziali benefici rispetto ai metodi tradizionali di cura 1 trattamenti rapidi e non invasivi consentirebbero una guarigione più veloce evitando la necessità di interventi chirurgici complessi e dolorosi 2 rigenerazione degli organi il potenziale di rigenerare organi danneggiati tessuti e persino correggere difetti genetici rappresenterebbe un enorme passo avanti nella medicina 3 personalizzazione delle cure grazie alle tecnologie di scansione e all'intelligenza artificiale i med bed possono offrire trattamenti personalizzati in base alla specifica condizione di ciascun paziente 4 riduzione degli effetti collaterali poiché lavorano a livello cellulare e molecolare i med bed potrebbero ridurre il rischio di effetti collaterali legati a farmaci o interventi chirurgici tradizionali 4 prospettive future la strada verso la medicina del futuro l'uso dei med bed potrebbe portare ad alcune importanti trasformazioni nel settore sanitario 1 accesso globale alle cure avanzate con la diffusione della tecnologia le cure avanzate potrebbero diventare accessibili in tutto il mondo abbattendo le barriere economiche e geografiche 2 riduzione dei costi della sanità anche se la tecnologia potrebbe inizialmente essere costosa a lungo termine potrebbe ridurre i costi complessivi della sanità diminuendo il numero di interventi chirurgici e trattamenti farmacologici necessari 3 trattamento delle malattie croniche i med bed potrebbero fornire nuove opzioni per la gestione delle malattie croniche migliorando la qualità della vita di milioni di persone 4 etica e regolamentazione è importante discutere anche delle implicazioni etiche e regolatorie legate a queste tecnologie in particolare in relazione al loro accesso uso e possibili rischi 1 cos'è un med bed una panoramica ancora più dettagliata i med bed vengono spesso descritti come letti terapeutici futuristici capaci di fornire diagnosi e trattamenti completi a livello cellulare e molecolare sono considerati una sintesi di tecnologie avanzate tra cui 1 olografia medica i med bed potrebbero utilizzare ologrammi medici tridimensionali che forniscono una mappa dettagliata del corpo del paziente permettendo agli operatori sanitari di identificare e analizzare ogni dettaglio con estrema precisione 2 energia e frequenze quantistiche questo aspetto riguarda l'utilizzo delle frequenze elettromagnetiche per ristabilire l'equilibrio delle cellule del corpo 2 secondo i sostenitori ogni cellula e organo a una specifica frequenza che può essere riequilibrata per stimolare la guarigione questa tecnologia promette non solo di curare malattie e ferite ma anche di rigenerare organi e tessuti correggere deformazioni congenite e persino cancellare ricordi traumatici a livello cerebrale l'idea alla base dei med bed è quella di superare i limiti della medicina tradizionale introducendo un modo completamente nuovo di concepire la salute e la guarigione 2 come funzionano uno sguardo più tecnico alla tecnologia un aspetto affascinante dei med bed è la loro combinazione di tecnologie avanzate 1 scansione molecolare e diagnostica i med bed utilizzerebbero tecnologie di scansione avanzata simili a una risonanza magnetica ma con un livello di dettaglio molto più fine 1 la scansione molecolare permette di identificare cellule danneggiate tumori infezioni e anomalie genetiche con una precisione inimmaginabile 1 una volta scansionato il corpo il med bed genera un rapporto diagnostico dettagliato 2 rigenerazione cellulare dopo la diagnosi i med bed utilizzerebbero tecniche di stimolazione cellulare basate su energia elettromagnetica e laser a bassa intensità per rigenerare i tessuti danneggiati 2 per esempio nel caso di organi malati la tecnologia potrebbe stimolare le cellule a rigenerarsi riportando l'organo al suo stato originale 3 terapia con frequenze e luce la terapia con frequenze si basa sull'idea che ogni cellula nel corpo ha una propria frequenza naturale 3 la malattia si manifesta quando queste frequenze sono alterate 3 il med bed correggerebbe queste frequenze riportando il corpo a uno stato di equilibrio 3 inoltre la luce a determinate lunghezze d'onda potrebbe essere utilizzata per accelerare il processo di guarigione migliorando la circolazione sanguigna e stimolando il sistema immunitario 3 vantaggi rispetto alla medicina tradizionale una prospettiva più profonda la medicina tradizionale si basa principalmente su interventi chirurgici farmaci e terapie che spesso sono invasive e possono avere effetti collaterali i med bed offrono invece una serie di vantaggi unici 1 trattamento personalizzato grazie all'intelligenza artificiale integrata e alla scansione olografica i med bed formiscono un piano di trattamento personalizzato che si adatta alle esigenze uniche di ogni paziente 2 riduzione del dolore e della convalescenza i trattamenti med bed sono progettati per essere non invasivi il che significa che non sono necessari tagli suture o periodi di recupero dolorosi 3 cura delle malattie croniche una delle maggiori sfide della medicina tradizionale è la gestione delle malattie croniche 3 i med bed potrebbero offrire trattamenti rigenerativi che affrontano la causa alla radice delle condizioni croniche come il diabete l'artrite le malattie cardiovascolari e persino alcune forme di cancro 4 prospettive future esploriamo il potenziale impatto globale dei med bed l'impatto dei med bed potrebbe essere rivoluzionario trasformando il modo in cui percepiamo e pratichiamo la medicina 1 accesso universale alle cure se i med bed diventassero ampiamente disponibili potrebbero ridurre le disparità sanitarie a livello globale 1 l'idea è quella di fornire cure avanzate e personalizzate in ogni parte del mondo anche nelle regioni meno sviluppate 2 etica e regolamentazione la diffusione dei med bed solleva importanti questioni etiche 2 ad esempio chi avrebbe accesso a queste tecnologie 2 quali sarebbero le implicazioni della rigenerazione degli organi e della manipolazione cellulare 2 la regolamentazione di questa tecnologia sarà cruciale per garantire che venga utilizzata in modo etico e sicuro 3 interazione con la medicina tradizionale i med bed non sono pensati per sostituire completamente i metodi tradizionali ma piuttosto per integrarsi con essi 3 la collaborazione tra la medicina convenzionale e quella quantistica potrebbe portare a nuovi approcci terapeutici fornendo cure più efficaci e complete 5 approfondimenti su tecnologie correlate grounding fare infrared e terapia vibrazionale 1 grounding messa a terra i sostenitori dei med bed sottolineano il ruolo del grounding che consiste nel connettere il corpo con la superficie terrestre per assorbire gli elettroni della terra aiutando a ridurre l'infiammazione e il dolore 1 alcune varianti dei med bed includono superfici che simulano il grounding per favorire il benessere generale 2 terapia a raggi infrarossi la terapia a infrarossi lontani è un'altra tecnologia integrata nei med bed 2 gli infrarossi sono utilizzati per penetrare nei tessuti e migliorare la circolazione alleviando il dolore e accelerando il recupero muscolare 3 terapia vibrazionale un'altra componente è l'uso di vibrazioni specifiche per stimolare i processi di guarigione 3 la vibrazione favorisce il rilassamento e la rigenerazione cellulare promuovendo una migliore risposta del corpo ai trattamenti se vi è piaciuto questo documentario mettete un bel like iscrivetevi al canale per non perdere gli aggiornamenti a presto grazie a tutti